Chef sempre più imprenditori, un vero e proprio boom quello del settore della ristorazione, per la cui crescita sono però necessarie attenzione al territorio, qualità e professionalità. Di tutto questo si è parlato nel corso del secondo Forum della Ristorazione Marchigiana, evento organizzato da ConfCommercio Marche e Fipe ConfCommercio, che si è tenuto nell'aula magna della Facoltà di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche. I temi centrali dell'evento sono stati il food cost, la lotta allo spreco alimentare, la formazione, la gestione della sala e l'efficienza aziendale, ma anche il lavoro con il nuovo contratto per i pubblici esercizi e la nuova legge sui menu marchigiani. Ormai si conosce lo chef e la cucina come una cosa importante che poi viene riportata alla casa. Oggi dobbiamo dare valore ai nostri collaboratori, ma anche alla sala. Facciamo in modo che capire che la sala e l'accoglienza è forse l'elemento più importante di un'impresa, perché accoglie il cliente e accoglie chiaramente la persona che si trova all'interno e fa conoscere soprattutto, ecco, che usiamo la parola di nuovo, ambasciatori del gusto e ambasciatori dei prodotti del nostro territorio. L'incontro è stata l'occasione propizia per fare una panoramica tecnica sui costi di gestione di un ristorante, ma soprattutto per introdurre un ciclo di incontri formativi dedicati agli imprenditori della ristorazione. Il ruolo fondamentale della formazione è stato infatti ribadito più volte. Ma queste sono imprese, sono imprese che richiedono investimenti, sono imprese che richiedono la gestione del personale, il rispetto alla normativa. E quindi da questo punto di vista il rischio, ad esempio pensiamo agli investimenti, e che poi non ci sia un ritorno. Oggi noi presenteremo un corso di laurea che affronta il tema delle competenze dal punto di vista della tecnologia alimentare degli alimenti e che ci fa capire come si possa allargare questo approccio in maniera multidisciplinare. Al centro del forum il contributo dell'imprenditore Roberto Costa, cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, premiato come The Best Restaurant Ovner di Londra e primo ambasciatore gourmet genovese nel mondo, che ha parlato della sua esperienza. Lo chef imprenditore in primis è stato creato negli ultimi periodi dalla televisione. Diciamo che noi cerchiamo di portare avanti una formazione tradizionale, quindi fondamentale per noi italiani, soprattutto all'estero, che diventiamo, mi lasci dire, ancora un po' più italiani, rimanere ben radicati alle radici, alle tradizioni e portarle avanti nel migliore dei modi.